Se Lady Gossip vi svelasse uno scoop di vera rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Rimanete con noi fino alla fine perché ne sentirete delle belle. L'amore è fatto di alti e bassi, ma sembra che per Edoardo e Antonella sia giunto il momento di dire addio ai ricordi con un gesto significativo. Dopo mesi di voci e speculazioni, sembra che il volto noto di Forum abbia messo un punto finale a questa storia d'amore che ha catturato l'attenzione di tanti. Ma cosa è successo? Per scoprirlo iscriviti al canale e attiva la campanella. Dejanera Marzano ha scovato una segnalazione da parte di un utente attento, il quale ha notato che Edoardo Donnamaria ha cancellato alcune foto che lo ritraevano insieme ad Antonella Fiordelisi, un gesto che parla da sé e che sembra suggerire che sia giunto davvero il momento di voltare pagina. Quante emozioni hanno vissuto insieme, quanti momenti condivisi, ora sembrano essere solo ricordi. Nel frattempo, Antonella non sembra essere rimasta con le mani in mano. C'è chi dice che un noto giocatore di fama mondiale abbia iniziato a mostrare il suo apprezzamento con una serie di like sui suoi post. Ma cosa succederà ora? Sarà davvero finita tra Edoardo e Antonella? O c'è ancora spazio per sorprese? Restate sintonizzati su Lady Gossip per tutte le ultime novità su questa storia e altre passioni delle celebrità.